Musica Ben ritrovati negli studi di Fano TV come vi avevo annunciato poco fa durante il nostro telegiornale questa sera parleremo di un tema sempre caldo, molto dibattuto e anche insomma diciamo che molto sentito dai cittadini il tema della sanità e per farlo ne parleremo insieme al presidente della regione Marche Luca Ceriscioli Buonasera Presidente Buonasera a voi Ricordiamo i nostri telespettatori che quando lei è stato eletto il 31 maggio 2015 ha deciso di tenere la delega per sé Si, era una fase, si apriva una fase importante, tante scelte strategiche da fare mi sembrava in quel momento essenziale che la responsabilità venisse presa a pieno dal presidente il processo che riguarda gli ospedali unici, l'aggregazione degli ospedali per acuti la trasformazione di quelli che erano i piccoli ospedali in strutture di ospedali di comunità quindi dal servizio per acuti a quello del territorio e scelte importanti da fare sulle assunzioni, sulle liste d'attesa, sugli investimenti Sanità Marchigiana che secondo me aveva bisogno di un rilancio, di un allineamento con quelli che erano le normative nazionali aveva bisogno di tutta la forza perché sappiamo quando si cambia in generale le resistenze sono tante ma in sanità è ancora più difficile Certo, c'era e c'è anche tanto lavoro da fare, fra l'altro adesso la lasciata a Volpini? L'abbiamo dato la delega al consigliere Volpini per tutto quello che può fare il consigliere è un supporto molto importante, segue l'80% di attività, a me resta la parte esecutiva che ovviamente non può essere delegata Certo che se hai assessori, che è una cosa veramente minima per una regione, ne avessimo potuto avere qualcuno in più probabilmente la delega a questo punto sarebbe andata ad un assessore Il 5 giugno scorso in Ancone è stato firmato un protocollo tra il comune di Fano e la regione Marche sull'assetto delle strutture ospedaliere però riguarda una volta effettuato questo realizzato l'ospedale unico Quali sono stati gli obiettivi principali di questo accordo? Beh, è chiaro che una parte riguarda la realizzazione dell'ospedale unico questo comporta un riassetto dei servizi, è importante raccontare nel contenuto del testo quello che poi si farà nelle strutture che restano Da qui alla realizzazione del nuovo ospedale non cambierà nulla Staremo come siamo oggi con Santa Croce che ha questa specialità di tipo medico la parte di muraglia oncologica e legata a radioterapia e San Salvatore chirurgica Una volta che si realizzerà l'ospedale unico che riassumerà tutte queste funzioni Su Fano resta un ospedale di base, quindi Santa Croce anche dopo continuerà ad essere ospedale L'ospedale di base permette di avere un pronto soccorso e le specialità connesse quindi la chirurgia H24, l'ortopedia, la medicina, quindi servizi che supportano insieme alla radiologia pesante il pronto soccorso e tutta una serie di attività di natura medica territoriale che permetteranno alla popolazione che oggi fa riferimento all'ospedale di continuare a ricevere in quella sede la gran parte dei servizi quindi le visite ambulatoriali, tutte le specialità, la parte radiologica, i prelievi e vi dicendo Quindi rimane anche dopo l'aggregazione una funzione ospedaliera con una concentrazione di servizi che sono normalmente l'80-90% di quello di cui abbiamo bisogno Io in mano ho proprio questo protocollo che è stato firmato vediamo anche le immagini proprio della firma lei insieme alla sindaco di Fano Massimo Seri fra poco andrò a leggere qualche passaggio Prima però le volevo fare una domanda se non ricordo male fino a qualche anno fa in base agli accordi precedenti l'ospedale Santa Croce doveva chiudere? Beh, inizialmente l'ipotesi era di fare l'ospedale unico in un'area baricentrica poi la scelta fatta con i sindaci con i criteri che sono stati dati ha spostato la scelta su muraglia è chiaro che l'equilibrio, come dicevo prima, l'assetto lo costruisci sulla base delle scelte al momento in cui anziché fosse sei ore è stato scelto muraglia si è deciso anche di riequilibrare in maniera diversa l'assetto dei servizi più che una chiusura era una trasformazione dei due ospedali sia a San Salvatore che il Santa Croce in strutture territoriali con la scelta di una collocazione un po' meno baricentrica rafforziamo mantenendo l'ospedale Santa Croce Ecco, infatti nel documento si precisa che l'ospedale Santa Croce di Fanno continuerà ad essere uno stabilimento dell'azienda Ospedali Riuniti Marche Nord deve svolgere funzioni sanitarie integrate con la nuova struttura e la restante rete ovviamente in grado di erogare attività soprattutto di tipo chirurgico verranno erogate prestazioni di specialistica e diagnostica di alto livello facciamo vedere anche il protocollo se abbiamo le slide saranno inseriti in tale struttura il pronto soccorso con accettazione di tutti i codici di colore chirurgia d'urgenza H24 la postazione dell'emergenza territoriale POTES, i reparti di chirurgia, medicina, ortopedia la terapia intensiva quindi reanimazione, medicina e chirurgia d'urgenza H24 presso lo stabilimento si svolgeranno funzioni di stabilizzazione, cura ed eventualmente centralizzazione per le patologie che richiedono specifici interventi secondo le modalità definite nelle reti cliniche con modello AB e SPOC ecco che cosa significa esattamente? perché queste parole inglesi magari non tutti, soprattutto gli anziani le conoscono quindi i pazienti verranno stabilizzati e poi trasferiti a Pesaro sì, rimane proprio la funzione di pronto soccorso è una parte che resta collegato a Marche Nord quindi è sempre azienda ospedaliera quindi è strettamente connesso all'attività principale la possibilità in gran parte dei casi di stabilizzare il paziente se poi ha bisogno di un ricovero di essere ricoverato per acuti al nuovo ospedale unico nel momento in cui invece può essere trattato lì e poi è rimandato a casa, riceve i trattamenti e torna a casa quindi veramente un filtro importante una presenza significativa nella rete di emergenza una risposta che oltretutto permetterà a mio giudizio di gestire ancora meglio il pronto soccorso dell'ospedale unico che avrà una funzione sempre più orientata verso i codici rossi codici giallici e codici più pesanti per appunto ridurre quella che è la pressione sul pronto soccorso che oggi in gran parte è fatto anche da codici bianchi e verdi di 80-90% sono codici di questa natura che vanno al pronto soccorso, devono aspettare gli altri e si lamentano magari che la tese è lunga in realtà questi codici possono essere trattati da altre strutture presenti nel territorio ma certamente il filtro di un pronto soccorso di Fano sarà un filtro molto importante Visti questi spostamenti, che cosa succederà per il personale che anche in questo momento sta lavorando a Santa Croce? Il personale è chiaro che si concentrerà in gran parte nell'ospedale unico la forza dell'ospedale unico è oggi noi abbiamo diviso le attività che un ospedale fa normalmente in un'unica struttura su tre abbiamo qualche doppione ne sono rimasti pochi, molti sono stati concentrati è normale che queste persone possano lavorare tutte assieme dentro un impianto ma i professionisti, chi lavora dentro l'ospedale sono anni che rivendica la necessità di andare verso un'unica struttura il paradosso nella struttura unica è come siamo organizzati oggi che è chiaramente un assetto di passaggio cioè aver portato a Fano credo ormai più posti retto di quelli che c'erano qualche anno fa e che continueranno ad esserci finché non verrà realizzato il nuovo ospedale ha bisogno poi ritrovare tutti i medici i professionisti in un'unica sede perché il paziente non può essere spostato da una struttura all'altra creando disagio, costi inutili e un modo di lavorare che non è quello più appropriato quindi la normalità sarà andare verso un'unica struttura che accolga tutti questi servizi offrendo tanta qualità e in questi anni credo che l'abbiamo fatta crescere quello che preoccupa un po' anche le donne è il fatto che i figli nasceranno pesaresi ormai con tutto rispetto per la città di Peso lo vorrei precisare ma magari essendo più attaccati ovviamente alla città d'origine magari farebbe piacere che i propri figli nascessero Noi abbiamo nelle Marche 236 comuni e oggi sono una decina di punti nascita quindi è chiaro che per 226 comuni già oggi uno non nasce con la dicitura nato in quel comune c'è una proposta di regge interessante presentata da Camilla Fabri che è proprio nella riorganizzazione di punti nascita che ormai sono e se ne erano sempre più o meno altamente qualificati con tutti i servizi che servono per la mamma e per il nascituro la necessità di ritrovare il nato nel proprio comune d'origine nella proposta di legge diceva insomma che tutti i comuni che afferiscono a una struttura possono poi registrare la nascita è una legge nazionale io spero che prima o poi trovi la sua strada perché penso sia bello e giusto poter avere nel proprio certificato di nascita il fatto di appartenere alla propria comunità mentre appunto il punto nascita ridotto in numero è quello che ci garantisce il fatto che uno poi arrivi a registrarsi a un'agrafe cioè abbia tutti quei servizi di sicurezza che dino qualità alla nascita quindi ci nasce a Pesaro però possiamo registrare Fano ecco bisogna spingere i parlamentari so che Fano neanche parecchi eletti a prendere quella proposta di legge e approvarla basta approvare quella legge e uno torna a nascere non solo fanese ma anche forse impronese piuttosto che in un altro comune qualunque delle marche che oggi non ha appunto nascita sarebbe davvero una bella proposta andiamo a leggere qualche altro passaggio del nostro protocollo saranno inserite attività chirurgiche specialistiche programmate la breast unit sarà previsto poi il servizio dialisi ecco questo è importante questo verrà garantito assolutamente sì non si dovranno spostare i pazienti a Pesaro quindi rimane a Santa Cuccia certo cioè il quadro dei servizi come dicevo prima è un quadro importante cioè restano veramente tanti di quei servizi che ci servono nel caso dializzato più volte a settimana o in generale la maggior parte delle volte il servizio per acuti è quello di cui abbiamo bisogno meno volte in generale e per fortuna dico nella nostra esistenza ma quando abbiamo bisogno quando la nostra malattia è acuta abbiamo bisogno che dall'altra parte ci sia il massimo della tecnologia tutte le specialistiche le più avanzate possibile che lavorano insieme perché questo è un altro punto importante oggi la qualità in sanità la fanno l'eccellenza delle singole professioni ma soprattutto quando intervengono tutti assieme quindi nella fase per acuti abbiamo un ospedale ancora più forte ancora più qualificato per tutto il territorio provinciale per gran parte degli altri servizi possiamo trovare la risposta vicino a casa i donatori di sangue invece si dovranno spostare a Pesaro? i punti prelievo sono ancora di più nel territorio quindi già abbiamo inaugurato qualche giorno fa il punto di Sasso Corvà tra parentesi bellissimo realizzato dall'Avis in collaborazione con il Consorzio di Bonifica e quelli più sono vicini ai donatori più sono comodi più sono pratici le marche sono un'eccellenza da questo punto di vista l'Avis sta facendo un grandissimo lavoro i volontari sono persone straordinarie quelle che donano il sangue a maggior ragione mentre ad esempio quello che andremo a concentrare è il punto di produzione oggi ci sono più realtà che fanno produzione cioè l'attività che si fa dopo le marche tutto quello che producono messi assieme giustificherebbe un punto di alta qualità ma non c'entra nulla con la disponibilità di spazio di risposte per i donatori e proprio ottimizzare ogni fascia del percorso perché il cittadino sia comodo ma nella parte dove serve più qualità trovi risposte bene dunque sarà organizzato anche un day ospital oncologico in quanto presente il servizio di anestesia tutela e garanzie di eventuali complicanze poi nell'ospedale saranno garantite attività di diagnostica per immagini quindi TAC ecografia eccetera a supporto del pronto soccorso per i pazienti interni ed esterni la specialistica ambulatoriale compresa la chirurgia ambulatoriale il day surgery e la diagnostica di laboratorio nelle modalità previste dalla specifica rete saranno presenti anche lungo d'agenza post acus e riabilitazione il protocollo però impegna la regione anche ad altro ad esempio avete trovato dei vari accordi con il comune di Fano fondamentale i 20 milioni di euro previsti per migliorare la viabilità e quindi creare un asse di ario per collegare le due città Fano e Pesaro ma non solo i 20 milioni sono disponibili non sono un impegno che faremo vedremo già oggi sono lì disponibili assegnati per Fano per il miglioramento della viabilità la prima ipotesi che abbiamo fatto con il comune è il completamento dell'interquartiere verso nord in direzione del nuovo presidio ospedaliero poi sarà il comune in qualche maniera decidere come impegnare meglio queste risorse anzi tra viruette abbiamo fretta di iniziare il percorso per spenderli perché essendo fondi FSC hanno una scadenza quindi prima cominciamo meglio è un altro segno concreto l'amministrazione fanese secondo me ha fatto molto dal punto di vista della viabilità dopo tanti anni in cui si cambiavano i sensi unici o si toglieva qualche semaforo o si aggiungeva ha iniziato a investire sulle strade si vedono tanti cantieri sia quello realizzato degli interquartieri sia il resto con questi 20 milioni si dà un contributo importante al completamento di questa viabilità quindi in coerenza diciamo con un investimento già fatto molto significativo e quelli sono disponibili subito non bisogna aspettare cioè come Santa Cruz andrà avanti fino alla realizzazione dell'ospedale quelli sono già disponibili oggi anzi diamoci da fare per spendere il primo possibile state già lavorando anche per un eventuale progetto ci sono dei progettisti al lavoro come no bisogna decidere quale tracciato quale linea utilizzare per andare a risolvere quest'ultimo tratto di avviabilità lo stanno facendo gli uffici regionali insieme al comune proprio per tradurre 20 milioni in nuove strade è difficile risolvere i problemi della viabilità solo con i cartelli bisogna anche investire fanno finalmente con questa amministrazione ha messo in campo tante risorse sulla viabilità e questo permetterà a mio giudizio di migliorare notevolmente quello che forse era un punto debole di questa parte della comunità regionale poi ci saranno anche 80 nuovi posti letto a destinazione sociosanitaria in particolare 40 di RSA 20 di cure intermedie 20 invece per le demenze quindi anche su questo canto anche questo è immediatamente applicabile parliamo quindi di una disponibilità importante la città di Fano aveva questa particolarità di essere particolarmente sprovvista di posti letto di questa natura sono posti letto territoriali permettono di gestire il paziente quando esce dal percorso ospedaliero o quando ha necessità per un lungo periodo rispetto a una malattia grave le demenze in modo particolare sono cresciute tantissimo quindi c'è un bisogno importante si inserisce una bella progettazione fatta insieme alla fondazione Cassa di Risparmio quindi va a integrare questa offerta un percorso che mette in moto investimenti infrastrutture parliamo quindi di lavoro di crescita economica 80 posti letto di quel tipo generano naturalmente 80 posti di lavoro quindi questa segnazione significa anche occupazione e che tiene insieme servizi a favore del cittadino e opportunità per chi vive in questa comunità di trovare un lavoro importante ecco ci sono tanti cittadini Presidente però che sono un po' preoccupati secondo lei per quale motivo? il cambiamento come detto prima preoccupa sempre indipendentemente poi c'è un affetto nei confronti delle strutture che abbiamo c'è la storia gli ospedali sono nati insieme ai comuni erano una volta tutti i tipi di servizi che li abbiamo rincato stavano in un'unica struttura che ospitava dal demente al malato a semplicemente l'indigente che aveva bisogno di un luogo per essere ospitato ma l'evoluzione è stata importante io credo che oggi ognuno di noi quando deve scegliere dove andarsi a curare sceglie un posto che gli garantisce la qualità che ha le tecnologie non è che vado nel posto sotto casa e questo mi garantisce non è detta può darsi che dici sia anche il professionista adeguato ma tante volte no e proprio i marchigiani di questa provincia sono quelli che più ricorrono alle cure fuori regione addirittura quindi c'è tanta mobilità passivo in questi anni la stessa persona che normalmente prende parte magari va a Milano anche in maniera ingiustificata devo dire qualche volta perché ci sono servizi che può trovare con la stessa qualità in regione e poi si preoccupa se si sposta di qualche chilometro un investimento dove dobbiamo immaginare questo che quello che avremo mettere insieme queste risorse sulle quali abbiamo fatto grandi investimenti in questi anni io voglio sottolineare ad esempio l'azienda ospedale Marche Nord ha circa 12 milioni di euro in più di budget annuale cioè in questi tre anni è cresciuto in termini di budget annuali 12 milioni ci lavorano 240 persone in più rispetto a tre anni fa ha fatto investimenti per oltre 20 milioni di euro dal robot alla sala sterilizzazione a tante attività che permettono di qualificare le tecnologie presenti nella struttura quando stiamo male per davvero nell'emergenza o quando vogliamo scegliere un intervento di qualità pensiamo alla robotica oggi lo possiamo trovare dentro questa struttura quindi è un cambiamento che concentra e qualifica la sanità più complessa che quella per acuti e restituisce al territorio invece la lungodegenza soprattutto il periodo di maggior permanenza dentro una struttura quando faccio la riabilitazione quando ho finito il percorso per acuti quindi paradossalmente si starà di più vicino a casa e farò un piccolo spostamento ma verrò ripagato con tanta qualità C'è stata secondo lei un po' di disinformazione ma si fa molto leva sulla pancia come un po' vale diciamo in generale in questo momento storico molta pancia poca testa e quindi come dicevo prima oddio perdo qualcosa e non lo valuto in un quadro più generale io penso che usando appunto oltre questo nostro sentimento naturale per quello che abbiamo nella nostra comunità valutiamo quello che guadagniamo in termini di sistema molto probabilmente la valutazione è che più quello che guadagniamo di quello che perdiamo un neo forse della sanità marchigiana sono le liste d'attesa le liste d'attesa sono un problema punto su cui lei fin dall'inizio ha deciso di lavorare ha deciso di lavorare continuerò a lavorare e continuerò a impegnarmi è un problema di carattere nazionale cioè quasi tutte le regioni hanno il problema delle liste d'attesa però magari favorisce anche questo la mobilità passiva perché se per mesare nelle aree di confine sì perché l'Emilia Romagna ha schierato una batteria di privato lungo confine impressionante 13 strutture private che aspettano di lucrare sulle liste d'attesa vale anche questo in generale noi a sud di fatto non ne abbiamo 13 ne abbiamo 3 che fanno lo stesso lavoro nei confronti dell'Abruzzo è una migrazione che vale un po' in tutta Italia però stiamo lavorando in maniera molto in modo particolare un impegno mio molto forte in questa direzione perché trovo veramente odioso spendere già investire tanto in sanità e poi perché non trovo lo spazio libero andare verso il privato e più delle volte per noi significa andare verso l'Emilia Romagna che mi dà la stessa prestazione magari una settimana dopo il lavoro a 360 gradi Marche Nord ad esempio ha aumentato la produzione del 20% dell'attività che fa sembra non bastare mai perché aumenta la produzione e aumenta anche la domanda però 20% in più è un numero importante ma continuiamo a insistere a 360 gradi perché vogliamo fare in modo che il sistema pubblico dia il massimo allora ad esempio il fatto di portare magari un po' un tecnicismo diciamo portare il tempo della visita o della prestazione nella stessa misura in tutta la regione significa allineare i tempi e i tempi più veloci avere più slot più spazi quindi più disponibilità di servizi investire sulle farmacie per la prenotazione significa semplificare la vita a tanti cittadini anziani siamo molto vicini all'accordo che permetterà di prenotare pagare il ticket direttamente in farmacia senza passare attraverso la telefonata noi vorremmo partire per ottobre siamo molto vicini all'accordo quindi ci speriamo il medico di medicina generale quella dematerializzata che permette da una parte anche il medico di medicina generale di valutare se essere lui colui che farà la prenotazione ma quella dematerializzata ci apre la possibilità di farlo online quindi per le persone più giovani quelle che usano normalmente la rete poter prenotare da soli direttamente attraverso le tecnologie tutti i spazi e opportunità quindi crescita degli slot più facilità nella prenotazione del pagamento per fare in modo che sempre di più il problema di rischio di attesa venga superato che le persone possano sentire essere in grado di avere quella risposta per la quale hanno già pagato senza dover pagare una seconda volta commentiamo insieme Presidente alcuni dati che riguardano appunto la sanità che cambia abbiamo delle slide che ci agevoleranno il lavoro abbiamo visto alle sue spalle prima anche quella che riguardava la mobilità passiva perché se non ricordo male si parla di un saldo positivo di 8,8 milioni per cui è un dato rilevante credo sia si riducono i saldi di 8 milioni quest'anno è migliorata dopo anni che il trend si vede molto bene nella parte sinistra del grafico cresceva sempre di più il saldo di mobilità in negativo e quest'anno recuperiamo 8,8 milioni c'è ancora tanto lavoro sono 47 milioni del saldo quindi c'è tanto da recuperare però aver invertito questa tendenza dopo aver assunto nella sanità marchigiana 1200 persone in più 17 milioni di euro di spesa nel personale cresciuta siamo sopra il tetto di spesa per il personale che va raggiunto nel 2020 quindi abbiamo aumentato il personale sanitario pubblico è aumentato migliorato le tecnologie ci aspettavamo una risposta anche da questo punto di vista che è arrivata noi speriamo di continuare così anche per il 2018 quindi lavorare sempre di più per invertire la mobilità e un pezzo del progetto è anche quello che abbiamo su Fano col discorso della clinica privata cioè vorremmo togliere alle 13 strutture private romagnole un po' di lavoro per darle all'interno della nostra provincia proprio nel territorio di Fano quindi il discorso che facevamo prima ridurre ulteriormente la mobilità passiva e dare anche nuovi posti di lavoro a 50 posti letto in una clinica privata sono tranquillamente un centinaio di posti di lavoro più un indotto molto importante più significativo rispetto ad altre attività quindi significa veramente trasferire fondi soldi che noi oggi spendiamo già verso il privato e il miliardomagnolo cioè non è che incrementiamo la spesa del privato togliendola al pubblico marchigiano no la togliamo al privato romagnolo invece di pagare da un'altra parte pagheremo qui e i posti di lavoro anziché essere a Cotignola ce li avremo a Fano esatto state lavorando anche su questo progetto state realizzando un rendering non so beh c'è un lavoro no perché c'è un lavoro col comune per la vendita dell'area si è scelta un'area di proprietà del comune a garanzia di tutti e quindi questo permetterà oltretutto di avere per il comune anche un'entrata dalla vendita dell'area ma non è la parte più importante la parte significativa sarà l'investimento che chi vorrà realizzare questa struttura dovrà fare e già quello è il lavoro di per sé più tutti quelli che ci entreranno più un'attività che è a crescere perché noi immaginiamo 50 posti letto che invertendo la mobilità passiva ci permetteranno di aumentare noi oggi regaliamo circa 100 posti letto in mobilità passiva dobbiamo farli tornare indietro e attivare questi 50 ci permetterà di recuperarne ulteriori quindi è invertire un circolo vizioso che ci portava ogni anno a mandare più risorse verso le altre province verso altri territori in modo particolare verso il nord e riportarlo nella nostra provincia ma anche se è una struttura privata convenzionata comunque il progetto verrà realizzato di concerto comunque con regione comune i servizi che dà il privato a differenza di quelli che offre il pubblico sono più flessibili quindi ci permettono di andare a guardare dove abbiamo più mobilità passiva e concentrare la risposta su quella faremo proprio un lavoro mirato sui dati che ogni anno abbiamo di dove vanno i marchigiani dove vanno i pesaresi i fanesi a prendere i servizi per offrirglieli nel loro territorio essendo convenzionato non si paga anche questo è stato un altro grande mito ha il privato se lo può permettere solo chi paga ma qui parliamo di privato convenzionato è come andare in una struttura pubblica è un altro discorso per il cittadino non c'è differenza anzi forse magari troverà anche una struttura nuova quindi una qualità diciamo in termini di accoglienza importante normalmente il privato ha nella scelta del professionista anche delle possibilità che il pubblico non ha quindi può fare anche scelte importanti tra parentesi può anche attivare addirittura mobilità attiva perché può organizzarsi non solo facendo tornare indietro i marchigiani che vanno in Emilia Romagna ma facendo venire qui i romagnoli quindi c'è una scelta molto forte che è guidata dal pubblico che agisce in sintonia col pubblico cioè non fa quello che gli pare fa quello che la convenzione stabilisce e venga fatto e ci permette a noi un governo straordinario per invertire proprio quel circolo vizioso e farlo diventare un circolo virtuoso parliamo anche di investimenti tecnologici anche quelli sono in aumento anche quelli in aumento nel caso della nostra provincia abbiamo avuto 15 milioni di euro da Marche Nord un paio di anni di investimenti superiori ma anche l'area vasta lo stesso ha avuto investimenti importanti oltre 5 milioni di euro in più in tecnologie e impianti che poi abbiamo potuto anche andare a inaugurare cioè in giro per il territorio vale per quest'area vasta vale per le altre vediamo sempre più insomma tecnologie avanzate parliamo invece di risorse quanto ci costerà un ospedale unico perché comunque sono soldi che sono di tutti i cittadini sarà un investimento importante che ricadrà sicuramente sul territorio ma si parla anche di risorse ingenti penso che pochi soldi sono spesi bene come quelli in una nuova struttura ospedaliera per tante ragioni prima immaginiamo che andiamo in una struttura antisismica e parlando e vedendo tutto quello che è successo ne comprendiamo bene il valore quelle attuali sono antisismiche quelle attuali sono strutture antisismiche nel senso che una è stata realizzata nella prima struttura nel 1904 l'altra nel 1908 mi sembra o giù di lì per le leggi di allora erano sicuramente antisismiche non saranno mai sicure come quella che verrà realizzata ma rispetto all'antisismica di quarto livello c'è quella che resiste anche al terremoto 7.0 e resiste nel senso che poi permette di continuare ad avere un servizio ospedaliero anche dopo una catastrofe di quella misura e un altro mondo e le marche hanno visto che cosa significa dal punto di vista energetico oggi sono macchine energivore ai nostri ospedali cioè consumano un sacco di energia potremmo dire anche in una logica ambientale fanno producono grandi emissioni di CO2 in aria è una struttura nuova una struttura che normalmente va in una classe importante dal punto di vista risparmio energetico non solo si fa spendere meno ma rispetta l'ambiente terzo l'organizzazione un ospedale nuovo rispetta criteri moderni di organizzazione di spazi di spostamenti di percorsi fra lo sporco e il pulito cioè è tutto organizzato secondo criteri contemporanei io penso che un investimento del genere sia importantissimo e di per sé qualificato un ospedale costa attorno di 200 milioni di euro ma l'attività che fa ogni anno Marche Nord è oltre 200 milioni di euro cioè quello che si sviluppa in termini di attività dell'ospedale è superiore al valore dell'investimento è chiaro che quello è il valore che fa per noi riferimento perché quello è tutti gli anni e poterlo fare in una struttura qualificata permette un recupero di risorse che tranquillamente copre gli investimenti ultima battuta parlando sempre di investimenti ogni tanto anche noi nel nostro telegiornale diamo notizie di reparti che si rinnovano continuamente sì perché è una macchina che non si ferma mai non vuol dire che essendo una prospettiva di un ospedale smetteremo di investire dentro la struttura del Santa Croce piuttosto che di Muraglia piuttosto che delle altre strutture del territorio l'investimento è costante noi dobbiamo continuare a garantire sicurezza qualità ai servizi e lo faremo fino all'ultimo giorno quindi non non è il nuovo ospedale il pretesto per non investire nelle strutture attuali anzi va proprio capita è troppo prezioso il servizio che viene dato per fermare gli investimenti sapendo poi adesso noi speriamo che vada tutto bene ma che i lavori in Italia non sempre rispettano le tabelle di marcia quindi a maggior ragione diventa assurdo smettere di investire chiudiamo con questa slide che vediamo alle sue spalle facciamo anche un riepilogo negli anni 2015-2017 abbiamo investito nella sanità delle marche quindi c'è un aumento del personale sanitario 1200 unità investimenti tecnologici oltre 200 milioni di euro e poi che si inverte anche la tendenza e cala la mobilità passiva dei pazienti con un saldo positivo di circa 8 milioni 800 mila euro i marchigiani avete scritto tornano ad avere fiducia nella loro sanità regionale avete fatto anche un sondaggio in merito perché vedo che i dati sono positivi però la fiducia dei cittadini ci sono le customer satisfaction eccetera che si fanno abitualmente e gli indici di fiducia non sono diversi da quelli delle regioni più importanti ma quello che viene segnalato in modo particolare lo dico rispetto al fatto di quanto crediamo nella sanità pubblica in 1200 unità in più non esiste una regione in Italia che abbia fatto un percorso del genere sì chi legge le cronache di questi giorni legge di gran parte della sanità nazionale che non ha neanche rinnovato il turnover dico non abbiamo fatto neanche il 100% del turnover cioè non abbiamo sostituito chi andava in pensione nelle marche non solo abbiamo sostituito chi andava in pensione ma a questi abbiamo aggiunto 1200 unità in più e parliamo di personale pubblico che lavora negli ospedali nelle strutture pubbliche della nostra regione i 200 milioni di euro di investimenti in tecnologie sono andate verso i nostri ospedali verso le strutture territoriali per riqualificare quelle che sono impianti ormai necessarie per fare una buona sanità gli 8 milioni e 8 per me è la misura migliore l'opinione può seguire anche le cronache e le mode ma se io torno a utilizzare e vado a utilizzare le nostre strutture credo che testimonianza migliore di quella non ci sia hai in programma anche di ritornare nel consiglio comunale di Fano presidente? ma credo che mai un presidente della regione è stato tante volte nel consiglio comunale di Fano se ci sarà l'occasione lo faremo sicuramente e l'ultima volta è stato curioso perché avevano chiesto una domanda su come stava andando la realizzazione dell'ospedale e dopo aver risposto che c'erano più proposte a distanza di un mese qualcuno ha polemizzato dicendo che non era stato detto nulla rispetto all'ulteriore proposta ecco forse è importante che quando si va ad un confronto oltre a parlare si ascolti anche quello che gli altri dicono e questa dimensione dell'ascolto è molto importante perché ci fa riflettere penso che le 1200 unità in più di personale devono far riflettere chi magari racconta storie fantastiche di derive privatistiche della sanità marchigiana l'hashtag che avete lanciato siamo sulla strada giusta quindi pensate positivo noi vogliamo continuare vorremmo riconfermare questo dato anche il prossimo anno abbiamo chiesto a tutti di lavorare in termini di produzione di attività continueremo a dare i budget che ci arrivano dallo Stato insomma meno di sorprese clamorose che non si siano tagli insomma in sanità in questi anni non abbiamo avuto risorse in più abbiamo avuto sempre le stesse risorse siamo stati noi a diciamo spingere perché queste andassero direttamente alle strutture con più coraggio con più determinazione i 200 milioni di investimento devo dire ce li ha dati ce li ha liberati il governo nazionale quello passato ci ha dato questa possibilità di recuperare dei residui ed è stata una cosa molto positiva però in generale insomma è stata proprio una scelta di investire fino all'ultimo centesimo in sanità Presidente grazie per essere stato nei nostri studi grazie per voi grazie ancora al Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli grazie anche a tutti i nostri telespettatori per averci seguito e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV arrivederci grazie a tutti